pirandello la patente con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d'occhi e di mani curvandosi come che regge rassegnatamente sulle spalle un peso insopportabile il magro giudice d'andrea soleva ripetere ah figlio caro a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere non era ancora vecchio poteva avere appena 40 anni ma cose stranissime e quasi inverosimili mostruosi intrecci di razze misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice d'andrea e pareva che egli oltre che della sua povera umile comunissima storia familiare avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze donde al suo smunto sparuto viso di bianco erano potuti venire quei capelli crespi gremiti da negro e fosse consapevole di quei misteriosi infiniti travagli di secoli e sulla vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista dai piccoli occhi plumbei e scontorto tutta la magra misera personcina così sbilenco con una spalla più alta dell'altra andava per via di traverso come i cani nessuno però moralmente sapeva rigar più dritto di lui lo dicevano tutti vedere non aveva potuto veder molte cose il giudice d'andrea ma certo moltissime ne aveva pensate e quando il pensare è più triste cioè di notte il giudice d'andrea non poteva dormire passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri gremiti suoi capelli da negro con gli occhi alle stelle placide e chiare le une come polle di luce guizzanti e pungenti le altre e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche di triangoli e di quadrati e socchiudendo le palpebre dietro le lenti pigliava tra i peli delle ciglia la luce d'una di quelle stelle e tra l'occhio e la stella stabiliva il legame di un sottirissimo filo luminoso e vi avviava l'anima a passeggiare come un ragnetto smarrito e pensare così di notte non conferisce molto alla salute l'arcana solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre specie a certuni che hanno in sé una certezza sulla quale non possono riposare la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo qualche seria costipazione costipazione d'anima si intende e al giudice d'andrea quando si faceva giorno pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo che gli dovesse recarsi al suo ufficio distruzione ad amministrare per quel tanto che a lui toccava la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci come non dormiva lui così sul suo tavolino nell'ufficio distruzione non lasciava mai dormire nessun incartamento anche a costo di ritardare di due o tre ore il desinare e di rinunziare la sera prima di cena alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese questa puntualità considerata da lui come dovere imprescindibile gli accresceva terribilmente il supplizio non solo ad amministrare la giustizia gli toccava ma ad amministrarla così su due piedi per poter essere meno frettolosamente puntuale credeva ad aiutarsi meditando la notte ma neanche a farlo apposta la notte spazzolando la mano a quei suoi capelli da negro e guardando le stelle gli venivano tutti i pensieri contrari a quelli che dovevano fare al caso per lui data la sua qualità di giudice istruttore cosicché la mattina dopo anziché aiutata vedeva insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte e cresciuto enormemente lo stento di tenersi stretto a quell'odiosa sua qualità di giudice istruttore eppure per la prima volta da circa una settimana dormiva un incartamento sul tavolino del giudice d'andrea e per quel processo che stava lì da tanti giorni in attesa egli era in preda ad una irritazione smaniosa a una tetraggine soffocante si sprofondava tanto in questa tetraggine che gli occhi aggrottati a un certo punto gli si chiudevano con la penna in mano dritto sul busto il giudice d'andrea si metteva allora a pisolare prima raccorciandosi poi attrappandosi come un bracco infratito che non possa più fare il bozzolo appena o per qualche rumore o per un crollo più forte del capo si ridestava e gli occhi gli andavano lì a quell'angolo del tavolino dove giaceva l'incartamento voltava la faccia e serrando le labbra tirava con le nari fischianti aria 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 e la mandava dentro quanto più dentro poteva ad allargarle viscere contratte dall'esasperazione poi la ributtava via spalancando la bocca con un versaccio di nausea e subito si portava una mano sul naso adunco a reggerle lenti che per il sudore gli scivolavano era veramente iniquo quel processo là iniquo perché concludeva una spietata ingiustizia contro alla quale un pover uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna possibilità di scampo c'era in quel processo una vittima che non poteva prendersela con nessuno aveva voluto prendersela con due lì in quel processo coi primi due che gli erano capitati sotto mano e sì signori la giustizia doveva dargli torto torto senza remissione ribadendo così ferocemente l'iniquità di cui quel pover uomo era vittima a passeggio cercava di parlarne coi colleghi ma questi appena gli facevano il nome di chiarcaro cioè di colui che aveva intentato il processo si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave o sotto sotto allungavano l'indice e il mignolo a far le corna o saferravano sul panciotto i gobbetti d'argento i chiodi i corni di corallo pendenti dalla catena dell'orologio qualcuno più francamente prorompeva per la madonna santissima ti vuoi star zitto ma non poteva starsi zitto il magro giudice d'andrea se n'era fatta proprio una fissazione di quel processo gira gira ricascava per forza a parlarne per avere un qualche lume dai colleghi diceva per discutere così in astratto il caso perché in verità era un caso insolito e speciosissimo quello d'un viettatore che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti sotto gli occhi nell'atto di fargli scongiuri diritto al suo passaggio diffamazione ma che diffamazione povero disgraziato se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di iettatore se innumerevoli testimoni potevano venire in tribunale a giurare che gli in tante e tante occasioni aveva dato segno di conoscere quella sua fama ribellandosi con proteste violente come condannare in coscienza quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo sollevano fare apertamente tutti gli altri e primi fra tutti eccoli là gli stessi giudici e d'andrea si struggeva si struggeva di più incontrando per via gli avvocati nelle cui mani si erano messi quei due giovanotti l'esile e patitissimo avvocato grigli dal profilo di vecchio uccello di rapina e il grasso mani in baracca il quale portando in trionfo sulla pancia un enorme corno comperato per l'occasione le ridendo con tutta la pallida carnaccia di biondo maiale eloquente prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata per tutti una magnifica festa orbene proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella magnifica festa alle spalle di un povero disgraziato il giudice d'andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un uscere in casa del chiarcaro per invitarlo a venire all'ufficio di istruzione anche a costo di pagar lui le spese voleva indurlo a desistere dalla querela dimostrandogli 448 che quei due giovanotti non potevano essere condannati secondo giustizia e che dalla loro soluzione inevitabile sarebbe venuto a lui certamente maggior danno una più crudele persecuzione ahimè è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene non solo perché il male si può fare a tutti e il bene sono a quelli che ne hanno bisogno ma anche anzi soprattutto perché questo bisogno di avere fatto il bene rende spesso così acerbi e gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare che il beneficio diventa difficilissimo se ne accorse bene quella volta il giudice d'andrea appena alzò gli occhi a guardare il chiarcaro che gli era entrato nella stanza mentre gli era intento a scrivere ebbe uno scatto violentissimo e buttò all'aria le carte balzando in piedi e gridandogli ma fatemi il piacere che storie son queste vergognatevi il chiarcaro sarà combinata una faccia da iettatore che era una meraviglia a vedere sarà lasciata crescere sulle cave gote gialle una barbaccia isfida e cespugliata sarà insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d'osso che gli davano l'aspetto ad un barbagianni aveva poi indossato un abito lustro sorcigno che gli sgonfiava da tutte le parti allo scatto del giudice non si scompose dilatò le nari di grignò i denti gialli e disse sottovoce lei dunque non ci crede ma fatemi il piacere ripete il giudice d'andrea non facciamo scherzi caro chiarcaro o siete impazziti via via sedete sedete qua e gli s'accostò e fece per posargli una mano sulla spalla subito il chiarcaro sfagliò come un mulo fremendo signor giudice non mi tocchi se ne guardi bene o lei come vero dio diventa cieco il d'andrea sette a guardarlo freddamente poi disse quando sarete comodo quando sarete comodo li ha mandato a chiamare per il vostro bene là c'è una sedia sedete nel chiarcaro sedete e facendo rotolar con le mani sulle cosce la canna d'india a modi un mattarello si mise a tentennare il capo per il mio bene lei si figura di fare il mio bene signor giudice dicendo di non credere alla iettatura ed andrea sedete anche lui e disse volete che vi dica che ci credo e vi dirò che ci credo va bene così no signore negò decisamente il chiarcaro col tono di chi non ammette scherzi lei deve crederci sul serio e deve anche dimostrarlo istruendo il processo questo sarà un po difficile sorrise semestamente il d'andrea ma vediamo di intenderci caro chiarcaro voglio dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto via porto che porto e che via domandò aggrondato il chiarcaro né questa da adesso rispose il d'andrea né quella là del processo già l'una e l'altra scusate sono tra loro così e il giudice d'andrea infrontò gli indici delle mani per significare che le due vie gli parevano opposte il chiarcaro si inchinò e tra i due indici così infrontati del giudice ne inserì uno suo tozzo peloso e non molto pulito non è vero niente signor giudice disse agitando quel dito come no esclamò il d'andrea là accusate come diffamatori due giovani perché vi credono iettatore e ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di iettatore e pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura sì signore e non vi pare che ci sia contraddizione il chiarcaro scosse più volte il capo con la bocca aperta a un muto ghigno di sdegnosa commiserazione mi pare piuttosto signor giudice poi disse che lei non capisca niente ed andrea lo guardò un pezzo imbalordito dite pure dite pure caro chiarcaro forse è una verità sacrosanta quella che vi è scappata dalla bocca ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente sì signore eccomi qua disse il chiarcaro accostando la seggiole non solo le farò vedere che lei non capisce niente ma anche che lei è un mio mortale nemico lei lei signore lei che crede di fare il mio bene il mio più acerrimo nemico sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocino dell'avvocato manin baracca sì questo lo so ebbene all'avvocato manin baracca io rosario chiarcaro io stesso sono andato a fornire le prove del fatto cioè non solo mi ero accorto da più di un anno che tutti vedendomi passare facevano le corna ma le prove anche prove documentate e testimonianze ripetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente incrollabilmente capisce signor giudice la mia fama di iettatore voi dal baracca sì signore io il giudice lo guardò più imbalordito che mai capisco anche meno di prima ma come per render più sicura la soluzione di quei giovanotti e perché allora vi siete querelato il chiarcaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice d'andrea si levò in piedi gridando con le braccia per aria ma perché io voglio signor giudice un riconoscimento ufficiale della mia potenza non capisce ancora voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa che ormai è l'unico mio capitale anzi mando protese il braccio batte forte sul pavimento la canna d'india e rimase un pezzo impostato in quell'atteggiamento grottescamente imperioso il giudice d'andrea si curvò si prese la testa tra le mani commosso e ripete povero caro chiarcaro mio bel capitale e che te ne fai che te ne fai che me ne faccio rimbeccò pronto il chiarcaro lei padrone mio per esercitare cotesta professione di giudice anche così male come la esercita mi dica un po non ha dovuto prender la laurea la laurea si ebbene voglio anch'io la mia patente signor giudice la patente di ghiettatore col bollo con tanto di bollo legale ghiettatore patentato dal reso tribunale e poi e poi me lo metto come titolo nei biglietti da visita signor giudice mi hanno assassinato lavoravo mi hanno fatto cacciar via dal banco dove ero scritturale con la scusa che essendoci io nessuno più veniva a far debiti e pegni mi hanno buttato in mezzo a una strada con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze nubili di cui nessuno vorrà più sapere perché sono figlie mie viviamo del soccorso che ci manda da napoli un mio figliuolo il quale ha famiglia anche lui quattro bambini e non può fare a lungo questo sacrificio per noi signor giudice non mi resta altro che di mettermi a fare la professione dell'oiettatore mi sono operato così con questi occhiali con quest'abito mi sono lasciato crescere la barba e ora aspetto la patente per entrare in campo e mi domanda come me lo domanda perché le ripeto lei è un mio nemico io sì signore perché mostra di non credere alla mia potenza ma per fortuna si credono gli altri sa tutti tutti si credono e ci sono tante case da gioco in questo paese basterà che io mi presenti non ci sarà bisogno di dir nulla mi pagheranno per farmi andar via mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche mi pianterò innanzi a tutte le botteghe e tutti tutti mi pagheranno la tassa lei dice dell'ignoranza io dico la tassa della salute perché signor giudice ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo davvero ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città giudice d'andrea ancora con la testa tra le mani aspettò un pezzo che l'angoscia che gli serrava la gola desse adito alla voce ma la voce non volle venire fuori e allora egli socchiudendo dietro le lenti i piccoli occhi plumbei stese le mani e abbracciò il chiarcaro a lungo forte forte a lungo questi lo lascio fare mi vuol bene davvero gli domandò e allora estruisca subito il processo e in modo da farmi avere al più presto quello che desidero la patente il chiarcaro protese di nuovo il braccio batté la canna d'india sul pavimento e portandosi l'altra mano al petto ripeté con tragica solennità la patente